Senza Pistimbone, ancora ultima veramente sul capitolo rifiuti. Il Presidente Gianni Giuliano quando il Presidente della Regione Claudio Burlando gli ha detto prendetevi qualche camion di Napoli, ha risposto assolutamente no. Lei come imprenditore, gestore della discarica che ci avrebbe giustamente anche poi in qualche modo guadagnato dall'arrivo di ulteriori rifiuti, che dice? Ho già espresso la mia opinione. Se si trattasse di un solo fattore di aiuto verso la popolazione che sta soffrendo, non dimentichiamoci che la popolazione campana sta in questo momento attraversando un momento drammatico per colpa di amministratori che a mio avviso non dovrebbero neanche più circolare. Però non è un fatto solo di solidarietà, è una questione comunque politica. Se avessero affrontato il problema seriamente prima non ci saremmo adesso trovati a risolverlo noi. Detto ciò a me non sembra opportuno, le ho detto non mi sembra opportuno che solo Imperia si facesse carico di tutte le mille tonnellate che dovrebbero arrivare dalla campagna, perché Imperia è in una situazione non drammatica ma neanche così florida per ricevere. Se si spalma su tutte le discariche della regione ne deriverebbe un quantitativo irrisorio e quindi per noi potrebbe essere accettabile tutte, anche se potrebbe essere un business diciamo di no perché comunque non ci sembra giusto penalizzare i nostri concittadini imperiesi per fare un favore a chi ha comunque sbagliato, mentito e quindi ridotto la popolazione in questa situazione. Quindi nessuna remora a seguire la proposta del Presidente Giuliano. E allora andiamo a chiudere come siamo partiti, siamo partiti dai circoli del Buon Governo, con i circoli del Buon Governo ci salutiamo dicendo se c'è qualche appuntamento e se c'è anche qualche riferimento, ormai il mondo telematico è alla portata di tutti, internet è ovunque, vi siete organizzati un po' anche da questo punto di vista. Sì, adesso tra l'altro ieri abbiamo studiato anche il nuovo logo un pochino più anche propedeutica a un impegno politico e quindi tra pochi giorni vedranno nel sito, non solo quello del circolo nazionale ma anche sul mio blog che invito a vedere, la nuova grafica del Buon Governo. Sì, PierpaoloPizzivone.it oppure il circolo.it, poi c'è il richiamo del link regione per regione. E quindi i prossimi appuntamenti sono, come dicevo prima, una campagna di adesioni che partirà a febbraio in tutta la regione Liguria per quanto riguarda noi e poi avremo appuntamenti intellettuali, avremo appuntamenti con presentazione di libri e anche lo annunceremo tra pochi giorni un corso che noi offriremo gratuitamente per l'autodifesa rivolta al pubblico femminile, l'autodifesa. Molto interessante, particolare. Faremo una prima spiegazione, faremo comunque un primo meeting per informare e spiegare di cosa si tratta e poi avremo una campagna di adesioni e partiremo con i corsi che noi offriremo gratuitamente alle donne per autodifesa. Fatto da persone serie, abbiamo già tutto pronto, abbiamo già creato tutta la struttura. E allora seguiremo con interesse anche questi nuovi appuntamenti che avrete ovviamente la bontà di comunicarci. A proposito di loghi nuovi, vedete che anche il microfono aperto da oggi inaugura un nuovo logo, una curiosa coincidenza che sta a indicare la volontà della struttura di Imperia TV, di essere sempre adeguata al passo con i tempi. Una volontà ovviamente che parte dall'altro dal nostro editore Francesco Dunino e da tutto lo staff senza il quale non saremmo qui oggi. Grazie davvero a Pier Paolo per la sua disponibilità e un arrivederci naturalmente. Arrivederci a presto. E un arrivederci, quello anche che rivolgiamo al nostro pubblico. Buona serata.